L'ho colpito per primi. Mi ha detto che vedo un individuo. Ricognitore! Torna nella zona di combattimento. Soldato, servono tutti gli uomini. Ricognitore nemico! Ricognitore nemico! Leggiù! Visto! Quei ricognitore è uno degli uomini! Non muoverti! Sto arrivando! Richard! Tieni questa cassetta! Avevamo perito, dottore! E te in sesto! Siamo a metà, avanti così! Vedo un assaltatore! Attenzione! Assaltatore nemico! Occhi aperti! C'è un assaltatore! Là c'è un assaltatore nemico! C'è un assaltatore! Temiamolo d'acqua! Sì! Abbiamo quasi vinto! Sì! 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 Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Munizioni! Sono a secco! Sì! 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 Sì!